Sorrisi a Madrid e scambio di ordini cavallereschi tra Franco e il re dell'Arabia Saudita. Nel palazzo di El Pardo il caudiglio, che ha ancora la mano fasciata a causa di una ferita riportata in un incidente di caccia, si intrattiene con Saud ibn Abdulaziz. Il sovrano saudita, il quale è stato sottoposto in America a una delicata operazione, dopo la visita ufficiale raggiungerà la Costa del Sole, dove trascorrerà un breve periodo di riposo.